Sono attesi per la giornata di martedì i risultati delle analisi sull'acqua interessata dall'interruzione del servizio che ha tenuto per diversi giorni circa 23.000 persone e 16 comuni senza servizio idrico a causa di un danno alla conduttura principale dell'acquedotto del Gran Sasso che è il più importante. La Gran Sasso Acqua ha ripristinato il danno nella stessa giornata della rottura a tarda notte ma i sindaci sono stati costretti per precauzione estrema ad emanare delle ordinanze di non potabilità. Sino a nuovo ordine l'acqua dunque potrà essere utilizzata soltanto per fini igienici e non alimentari. Ieri sera la Gran Sasso Acqua ha mandato comunicazione a tutti i primi cittadini interessati dal problema. I campionamenti sono stati effettuati nella giornata di domenica su tutte le zone interessate dal problema dai tecnici Pietro Filauro e Alessio Bonanni. I laboratori hanno una tempistica che varia dalle 36 ore per l'analisi chimica alle 48 per quella microbiologica ed essendo state fatte entrambe i risultati ha comunicato ai sindaci il presidente della GSA Fabrizio Eraldi non arriveranno prima di martedì. Le zone interessate sul capoluogo sono state Bagno, Piano, La Sant'Elia, San Giacomo Alta, Colle Sapone, Gignano ma solo parzialmente, Bazzano e il suo nucleo industriale più 15 comuni della zona est. Ovviamente nel territorio interessato ci sono molte aziende per cui la Gran Sasso Acqua si è messa a disposizione per eventuali necessità.